Il giudice monocratico del Tribunale di Patti Rita Sergi ha condannato Ismaele Scaffidi, 25 anni di gioiosa marea, a nove mesi di reclusione e 300 euro di multa. Si contestava furto aggravato per episodi che si sarebbero verificati tra febbraio e luglio 2014, con ammanchi sul conto corrente per 15.200 euro. Scaffidi è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a quelle riferite alla perizia grafica e anche al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede a Tindara Annunziata e Natale Merlo, costituitisi parte civile con l'avvocato Carmelo Merlo. Secondo l'accusa, che al termine della requisitoria aveva chiesto una pena pesante, tre anni e due mesi di reclusione, Scaffidi avrebbe fatto alcuni prelievi sul conto corrente della persona presso la quale lavorava come badante. Una circostanza, secondo il prospetto accusatorio, avvalorata anche dalla perizia grafica effettuata su un pezzo di carta in cui era stato scritto il PIN del Bancomat. La difesa di Scaffidi è stata curata dall'avvocato Tiziana Mastrantonio. Ha ribadito che il giudice in sentenza lo ha assolto da un'altra circostanza del furto di un orologio per non aver commesso il fatto. Il legale della difesa ha riferito inoltre che ci sono stranezze nell'imputazione riguardanti soprattutto i prelievi al Bancomat. Queste si evincono dall'estratto conto e dagli orari in cui sono stati effettuati i prelievi. Tutte queste incongruenze, in funzione delle quali Scaffidi ha più riprese, si è riferito di non essere stato lui l'autore dei furti di denaro, nell'attesa di conoscere le motivazioni saranno oggetto del ricorso in appello.